Iniziamo, 2, 1, missione e ripetere! Ghost Legacy me lo voglio prendere, me lo voglio provare. Perché? Perché tutti ne parlano un po' così così, un po' come un'occasione mancata e io sono incuriosito, calcolate che io ho finito Alex che è un gioco molto criticato, molto bistrattato da tanti e magari anche di nicchia, l'ho voluto finire e ne ho avuto un parere assolutamente ottimo. Quindi vi voglio parlare un pochino liberamente, poi farò un video sulle mie considerazioni finali se finirò il gioco, però intanto voglio parlarvi di quella che è la mia impressione riguardo a questo titolo. Allora, fondamentale da dire è che bisogna chiarirsi la mente su quello che ci si aspetta da un gioco, soprattutto da un gioco come questo. Nel senso che se vi siete visti dei gameplay in passato e vi aspettavate un The Witcher, un Dragon Age, un gioco di ruolo dove fare mille cose, mille dialoghi, mille scelte, no, non è questo. Se lo consideriamo sotto quello che è, secondo me è un gioco anche carino, perché a me onestamente non piacciono i giochi dove si combatte e basta, ma quando si combatte con una qualità tale come in questo gioco, sono combattuto. Perché? Perché tutto quello che fate all'interno del gioco ha la finalità di potenziare il vostro personaggio. Ma iniziamo dall'inizio, vi faccio vedere il diario con i vari capitoli che vi spiegano tutto quello che è successo, non vi voglio spoilerare molto. Vi dà una mappa, pian piano nelle prime due ore di gioco ve la sbloccate, la prima zona perlomeno, perché è un mondo, un continente diviso in quattro regni ed è una di quelle categorie che vengono definite Isekai, se non sbaglio il termine, praticamente un po' come Nino Kuni dove la nostra protagonista vive nel mondo reale, vive a New York, ma in seguito a un evento che bisognerà chiarire nella storia, si ritrova in questo mondo parallelo in cui tante persone, tra l'altro ho visto che si somigliano, ma devo vedere se è solo una coincidenza, e si ritrova con, vincolata a questo suo bracciale che vedete che ha al polso destro, e vabbè, parlano continuamente, questa è una grande critica che gli hanno rivolto, continuano a farsi battute, a punzecchiarsi, li ho trovati piuttosto divertenti, devo dire la verità. Lui continua a chiamarlo Vambaris, quindi bracciale, lei continua a chiamarlo Caff, che sarebbe Polsino, insomma, lì si offende. Così come anche quando all'inizio lei prende a botte per toglierselo una ringhiera, e lui urla, aia, aia, lei gli dice ti ho fatto male, e lui no, e mi fanno ridere, è un umorismo un po' così, però insomma, poi a lungo termine, quando state fermi, iniziano a parlare, magari diventa un pochino più pesante, però niente di che al momento. È molto utile lui, perché con il tasto X potete scansionare l'ambiente, vi dà le varie risorse, soprattutto se vi trovate di fronte a dei nemici grossi, e non sapete se potete affrontarli o meno, lo fate e vedete che loro due inizieranno a parlare dicendo, quel nemico tu cosa faresti? e l'altro fa, no, io me ne andrei. E quindi capite che non è del vostro livello, che è molto difficile, insomma, e che non potete affrontarlo. Questo è in sintesi. La mappa, ve lo fate vedere, e la mappa è costellata di tanti punti di interesse. Adesso prenderemo a vederne uno, caro o distrutto, e in viola quello che ci viene regalato, una volta che completeremo questa zona, piuttosto che, che so, qua c'è un dungeon, vedete, ci dà una collana. Alla fine, qua c'è un forziere, qua c'è un monumento, i monumenti danno un potenziamento alle statistiche, poi abbiamo l'equipaggiamento, appunto, diviso tra, adesso aspettate che, eccolo qua, diviso tra mantello e collana. Entrambi poi si possono potenziare il crafting, ve lo faccio vedere dopo, ma li potete equipaggiare, qua ci sono i vostri valori, qua in alto vedete il livello, il mana che abbiamo, poi vi spiego anche quello, il vigore, la cura, la difesa, la salute e la prestanza magica con una statistica. Queste statistiche aumentano il passaggio di livello, aumentano esplorando, trovando questi altari, questi monumenti, così come anche oggetti che vi fanno potenziare in modo permanente, questo incentiva, è fatto per incentivare l'esplorazione. Le risorse, abbiamo l'elenco delle risorse raccolte, ce ne sono tante, e l'archivio è molto utile perché ci dà informazioni su ogni personaggio e la considerazione che devo fare all'inizio è che riguardando i vari personaggi, io adesso non vi spoilerò nulla, però riguardandoli adesso dovrebbe comparire, credo, anche l'immagine. Mi ricordo alcuni, nonostante ci abbia giocato solo tre ore, li ho presenti, li ho intravisti, mi stanno simpatici, mi sono fatto un'idea, ho cambiato delle tue idee in solo tre ore. Quindi, cari, il gioco non dura tanto in realtà, perché se correte o fate in 10-15 ore, se no arrivate anche a 30. Però, ripeto, poi lo ripeterò dopo, non dipende da che cosa vi aspettate voi dal gioco. Comunque, l'archivio è molto interessante. La magia l'ho lasciata per ultima, ma la magia è molto importante perché girando troverete degli oggetti che vi potenziano, vi fanno salire il mana, che è una sorta di risorsa, e con questa risorsa potenziate gli incantesimi. Vedete qua, il 1-19, potrei prendermi un incantesimo che chiede 12. Questo, la pannacea, vi fa spuntare l'altro braccio delle piante magiche efficaci contro il veleno. Me la posso prendere, vedete che mi dice che posso prenderlo, ma non sono tutti qui, perché tanti, esplorando sempre, potete sbloccarli. E vi dire, hai trovato un nuovo incantesimo? Appena entrerete qui, vedrete il nuovo cerchio che va a formarsi. Quindi, pian piano, ne scoprirete tanti. E gli incantesimi si dividono tra attacco e difesa, e tenendo premuto il tasto cupo ai callpad, sicuramente sarà meglio. Avete due magiche, al momento ne ho due. Col tasto destro la attivate, io attivo quella o quella che imprigiona i nemici un guerriglio di rebacia, qua fa sbocciare dei fiori che raccolgono le rocce e le lanciano, io prendo quella che incastra. Col tasto E, invece, minuto di attacco, abbiamo la sassata esplosiva, che ho da poco potenziato a livello 2. La sassata multiple al barriere di sassi, io prendo questo. E ora vi faccio vedere anche il combat, poi passiamo, torniamo qui. Questo è uno dei rifugi dove ce ne sono sparsi per il mondo, potete usare il crafting, potete dormire. Dipende sempre da che cosa vi aspettate dal gioco, appunto, se vi aspettavate un Dragon Age, un gioco di ruolo, di quelli profondissimi. No, qua si approfondisce essenzialmente la storia e i vari personaggi. Poi, possiamo dire, magari si è, hanno parlato nelle recensioni della storia, hanno fatto delle critiche al finale, non lo so, ma questo non aspetta a me. Nel senso, io vi voglio far vedere come funziona il gioco, perché tante volte, guardando le live di gente che gioca, non vi viene spiegato questo. Io ho trovato un documento, diffusione della rovina. La rovina è la piaga che sta uccidendo tutti all'interno di questo mondo, li pietrifica, insomma, e noi sembriamo dei predestinati perché non ci ha ucciso e ci siamo passati in mezzo. Abbiamo recuperato degli oggetti per la cura, per il crafting della cura, cura nostra, e qua abbiamo trovato un altro diario. Possiamo fermarci, leggere e scoprire la storia di questo luogo, perché c'è un carro distrutto e così via. Ma ora, vediamo il combattimento. Il combattimento, adesso vedo se trovo un nemico. Ovviamente noi abbiamo all'inizio, troveremo gli incantesimi per il parkour, quindi ci consente di saltare fino a un certo punto in altezza, premendolo ripetutamente. Qua scansioniamo. Lei si discosta un po' dal canone classico di Mediovale, perché parla new yorkese. Parla con parolacce, insomma, cose varie. Però l'ho trovata simpatica questa cosa, perché se una persona, diciamo, una Lada, insomma, povera, senza casa, se ritrovassi in un mondo con la magia, direbbe, uh, che figo questo, che figo quello. Questi sono il mana, il potenziamento del mana, che trovate esplorando. Vedete, io sono arrivato qua, ho trovato il mana. Ora cerchiamo dei nemici da combattere. Qua ci sono dei nemici. Posso fare un attacco preventivo, come ho appena fatto. E vedete, con il tasto sinistro attacco, tenendo premuto carico, Posso attivare questa abilità, che è quella che abbiamo detto prima. Alcuni nemici possono inferire alterazioni di stato, avvelenamento, sì, ovvio. Adesso io uso la stretta, che non ce l'ho fatta prima usarla. Mamma mia, sono immuni a quella pianta che li imprigiona. Quindi niente. E premendo il tasto del parkour, quindi il control, potete fare dei movimenti laterali, e se lo premete insieme al mouse, lei rotola. Ovviamente col pad è ottimizzato questo gioco, quindi. Però intanto stiamo combattendo. Ora, il combattimento, come tanti giochi orientali, ci verrà valutato con una lettera fino a una stellina. Grado C. Finora. E praticamente, abbiamo fatto altra esperienza, breve faremo un altro livello, saliremo a livello 6. Più giochiamo a livello alto, più le ricompense sono alte. Ora, abbiamo battuto i nemici, possiamo raccogliere col tasto F e aprire il forziere, che sulla mappa, è scomodo che non c'è un tasto M, per aprire la mappa dovete andare qua, dovrebbe venire indicato forziere. Infatti c'è un forziere dove siamo noi e ci siamo proprio davanti, quindi lo apriamo, che è questo qui. Dentro va degli oggetti. Allora, questo è il forziere e abbiamo preso la pietra a grana fine. Ovviamente il parkour lo potremmo potenziare dopo, però funziona sempre piuttosto bene. Possiamo anche correre. E con la corsa possiamo procedere. Vedete, lì c'è un nemico, possiamo attaccarlo. Vediamo se riesco a usare finalmente quell'incantesimo che li imprigiona. No, immune. Sono immuni questi all'incantesimo che li imprigiona. Ma quando... Vedete che in basso alla destra c'è un triangolo. Quel triangolo più combattiamo, più sferiamo colpi, più si riempie. Quando è riempito del tutto, sinistro, destro del mouse insieme attiverà la nostra super mossa. Allora, ripeto per l'ennesima volta. Il gioco io non mi ero fatto aspettativa perché non lo conoscevo e volevo proprio sfidare la critica. Sfidare nel senso di... Loro hanno detto questo, voglio vedere se a me effettivamente piace o devo farmi davvero condizionare dalle recensioni. Un 7 oggi è diventato un pessimo voto. Un 7 e mezzo, un 8 insomma, e non un 9. Allora, vabbè, niente, mi sto già adoperando per questa cosa. Comunque, il combattimento è il fulcro di tutto. Noi giochiamo per potenziare noi stessi. Però, lo facciamo guardando una mappa, guardando dei punti di interesse. Ad esempio, io adesso sono curioso di vedere cosa c'è all'interno di... Vediamo se si vede da qui, perché l'ho visto prima, di quella cupola. Cosa c'è dentro quella cupola? Io là dentro so, guardandoci, che dovrebbe essere questa. no, e adesso, mannaggia, non riesco a vederla. C'è un dungeon che mi dà... Devo aprire una mappa un pochino più dettagliata. Sì, voglio andare indietro, così me la vedo. Che dovrebbe essere... No, questo. Eccolo qua. No, perché se qua siamo sull'alto piano... Mannaggia, l'avevo vista prima. Praticamente c'è... Un dungeon, che è appunto quello che abbiamo visto prima, dove ci dà la collana. Ora, eccolo qua. La collana, liberi dentro sigillato est. Voglio andare là, e là c'è un dungeon, lo affronto, e mi sblocco la mia collana. Quello è una delle cose da fare. I rifugi servono per teletrasportarsi velocemente tra una zona e l'altra, e adesso vi faccio vedere. Comunque, un'altra cosa interessante, come vi dicevo prima, se faccio la scansione, vedete che loro adesso parlano. Potrebbe essere un po' oltre le nostre possibilità. Ok, troviamo un altro modo. Ora, vi faccio vedere un'altra cosa. Andiamo a vedere... Tengo premuto il control, sto andando avanti così. Allora, apriamo la porta. Qua dentro ci sono documenti, oggetti, li raccogliete la prima volta. Potete dormire e ripristinare la vita. Ora, qui abbiamo il tavolo del canale. Crafting. Col tavolo del Crafting possiamo creare o potenziare. La creazione ci permette di potenziare, creare un infuso curativo, quindi magari abbiamo cinque pozioni di cura che si attivano col tasto C. Possiamo crearne un sesto. Lo facciamo. Poi, possiamo aumentare la borsa per i rimedi. Abbiamo una scheggia preziosa, cioè ne chiede una, ne abbiamo due, lo creiamo. Quindi a questo punto possiamo fare un altro infuso curativo, ne abbiamo sette. È sempre comodo. Ma, la cosa più interessante è il potenziamento. Il potenziamento ci consente di, in questo caso, vabbè, qua possiamo aumentare la salute, ma non possiamo più farlo. Cioè, no, in realtà sì, possiamo aumentare il bonus alla magia viola, la salute, la difesa, oppure aggiungere un tratto. Ora, qua non ne abbiamo. Vedete, in questo caso, questo mantello qui, il tutorial era basato su questo, ma in realtà poi io ho trovato subito questo esplorando, perché l'esplorazione in questi giochi viene sempre premiata. Potete o potenziare, spendendo quello che ci dice qua sotto, oppure andare ad aggiungere un parametro. Il parametro lo potete scegliere tra miglioramento di caratteristiche, quindi più forza, scusate, più salute, più difesa, più magia viola, piuttosto che attacco, con una diversa risorsa richiesta. Potete potenziare i colpi critici o colpi di grazia, potete aggiungere un effetto di difesa o un effetto di cura. Ne potete aggiungere fino a tre per i vari equipaggiamenti che trovate, che sono collana e mantello. Ovvio, vi aspettavate un gioco con mille oggetti da poter equipaggiare? Andate su Altaro, insomma. Questo è un gioco dove vi snozzolate la lore, che a me sembra anche ben fatto, ho visto giochi molto più superficiali, e vi potenziate, vi scoprite i vostri incantesimi, diventate più potenti e andate avanti con la storia. Lo trovo anche piuttosto leggero, cioè c'è la voglia di andare a vedere che cosa c'è lì, che cosa c'è là, bello l'incantesimo nuovo, non vedo l'ora di provarlo, voglio sbloccare quello, ma per un'avventura che dovete sapere e dovete essere consapevoli non sarà un'avventura di 150 ore. E questo è il trucco. Poi possiamo discutere del fatto che il gioco, ho detto che l'avrei comprato, probabilmente l'avrei comprato su Instant, perché 80 euro sono onestamente troppi. Questa è un'altra cosa, cioè graficamente è bellissimo, niente da dire. Ho tolto il ray tracing perché secondo me il gioco è più brutto con il ray tracing, almeno per il dettaglio che potremmo permettermi io, è una 2080, ma senza è diventato veramente bello. Aveva tanto bloom, tanto sfocato che mi dà fastidio una volta, mi piaceva adesso. E quindi, insomma, è troppo, come parezzo. Quello assolutamente sì. Infatti, su Instagram ho trovato una trentina di euro in meno e secondo me può valerne la pena se vi piace il genere. Però, ecco, quello che io volevo farvi vedere in questo video, in questo primo video, poi farò un video di considerazione, ripeto, se il gioco andrò a finirlo, perché non è il fatto che io vi ne parlo bene, vi dico gli atti positivi e poi me lo finisco, nel senso che poi ognuno va a gusti. Io l'ho interpretato così e per quanto ho visto finora il gioco mi piace. Ho sentito tante critiche sul fatto che lei parla con le parolacce, sul fatto che è un'occasione persa. è un'occasione persa ma dipende sempre da cosa ci stiamo aspettando. E questo è il problema. Perché il sistema di combat è bellissimo? Assolutamente sì. Potevano fare di più e dipende sempre che gioco vogliamo farlo diventare. Questa è il... Vedete? Cioè, è figo, è bellissimo. È un gioco così. Cioè, potevano farci un gioco di ruolo con molti scelta, certo. Riusciva a trattare anni. O magari era un gioco voluto così. Non lo so, io adesso non so la storia di questo gioco. Se ha avuto uno sviluppo travagliato o meno. È stato rinviato, quello lo so. Ma così come analisi forse il prezzo esatto sarebbe stato un 10-20 euro in meno. Però gli hanno dato 7. Dipende. Se ti aspetti il gioco di ruolo della vita gli dai 7. Il discorso è anche quello. Non c'è il ciclo giorno-notte. Boh, mi fossi fatto un'illusione. Ho preso una nuova magia. Adesso vi faccio vedere. Vediamo. Questo forse? Non ho visto dove me l'ha aggiunto. Prenost. Accelare a dannoti una spinta dal terreno. No, questo ce l'ho già. Vabbè, ho preso un nuovo incantesimo semplicemente combattendo. Ecco, no, dicevo, avessi, mi fossi fatto io l'idea che questo era un gioco di ruolo dove potevi vagare il ciclo giorno-notte, vedere i mostri di notte che sono diversi da quelli di giorno, giocare via il Drenaring, primo. Secondo, non è quello. Sarebbe certo stato figo vedere questo panorama di notte, ma ci sono mille altri giochi che lo fanno. Io non avevo aspettative. Ho scoperto che non è così, ma il giorno-notte si adatta alle situazioni della storia. Me ne faccio una ragione. Ho altro da fare. Devo esplorare la zona. La quest principale mi sta portando lì. Adesso io non voglio andare lì, voglio andare avanti e vedere sulla mappa che cosa c'è da vedere. Adesso, oh, finalmente sono riuscito a ruotare la mappa. Vedete, qua c'è un forziere che non ho ancora aperto. Qua c'è un mutante che, vabbè, non posso affrontare troppo forte. C'è un forziere anche qui. Abbiamo scoperto il crafting lì. Il carro distrutto l'abbiamo fatto, non c'è più niente. Ci sono ancora dei forzierini. Vabbè, poi andremo avanti e scopriremo altro della storia. Magari il tutorial mi sbloccherà ancora qualcosa. Comunque, sappiate che bene o male il gioco è questo. Ho voluto farvi vedere il video. Mi riprometto di farne un altro se finino il gioco per darvi un'impressione finale. Ma ho voluto farvi vedere il gioco perché tante volte guardate la gente giocare boom, 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 vi parla di qui e di là ma non vi fa vedere effettivamente come funziona. Ripeto ancora, shift vedete vi fa il movimento. Se io intanto premo anche il mouse mi fa la capariola e attaccate così come fosse uno sparaturo. Questa è solo una una degli incantesimi. Insomma, c'è la sassata multipla ma ce ne sono tanti altri che poi andrò a sbloccare. C'è la barriera che poi lancia. Avete visto prima il groviglio di cose. C'è tra l'altro anche questa che è quella che prende crea le erbe che prendono i sassi e li lanciano ai nemici. Poi a me piacciono molto queste cose dei mondi paralleli perché quando lei che è in un baratro nella vita reale si ritrova qui può lanciare magie e mi immagino sia figo che si esalti anche un pochino. E il fatto di vederla comunque cambiare e andare avanti mi motiva diciamo e mi incuriosisce a voler andare avanti a scoprire che cosa succede. Là in fondo c'è la città la città potete dire è smorta ma cose da vendere da recuperare con i collezionabili ci sono. Ovvio non è un gioco di ruolo non è un gioco dove andate a accumulare soldi e andate a comprare l'equipaggiamento comprare le frecce non è quello il gioco non è quello c'è bisogna farsi l'idea che il gioco non è questo se ci si aspetta questo il gioco non fa per voi va lasciato da parte e non criticato insomma perché è un altro tipo di gioco è un gioco dove magari esplorando in città facendo missioni in giro vi vengono date da quello che ho visto finora e poi può cambiare delle bamboline quando avete tot bamboline potete scambiarle per un oggetto che può essere il mantello che ho preso può essere una collana nuova può essere un potenziamento un incantesimo e cose del genere e andate avanti poi ovvio non è un gioco longevo quello senza dubbio quindi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti se avete domande insomma sempre qua sotto e non mi sarà possibile credo portarlo in live perché ho dovuto usare due programmi per registrare audio e video perché su il mio programma solito lagga è proprio pesante il gioco gira benissimo ma probabilmente con anche il programma di registrazione ed acquisizione video non ce la faccio quindi in live non credo si riuscirà però magari abbassando un po' al dettaglio però non credo lo porterò live fatemi sapere che cosa ne pensate questo è tutto nei commenti e alla prossima ragazzi e ciao ciao